Un po' qualche minuto, no, sai cosa è che sono un pochino interessato, da ragazzino volevo fare carriera militare in aeronautica, ero andato a Napoli per fare tutte le visite preliminari, tutto quanto fisicamente perfetto, quello che mi ha fregato all'epoca era la vista, avevo già un minimo di occhiali e quello mi ha fregato un po', dentro, 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 nella grazie! Wow! Grazie a tutti. Si sente subito. Grazie a tutti. Se non hai esperienza, se non hai esperienza, se non hai esperienza, se non l'altro. Eh si, non mi rendevo conto della distanza. Hai ragione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.